Musica Primo maggio, festa del lavoro ma non per tutti. Nel 2022 nell'isola sono 566 mila gli occupati, numero ancora inferiore di 16 mila unità, meno 2,7% rispetto ai 582 mila del 2019. Sono questi i principali numeri sull'occupazione nell'isola che emergono dal report Primavera 2023 Tendenze, cambiamenti e incertenze della Sardegna realizzato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna su dati Istat nel triennio 2019-2022 relativo alle evidenze su occupazione e entrate previste dalle imprese ad aprile 2023. Questi dati ci dicono che purtroppo ancora una volta il primo maggio in Sardegna non potrà essere la festa di tutti i lavoratori, ha affermato Maria Melialai, presidente di Confartigianato. I numeri ci ricordano anche come una leggera ripresa si sia vista proprio negli ultimi due anni, con l'intervento pubblico, con le garanzie finanziarie statali, i sostegni e i ristori, e con il super bonus e gli altri bonus che nel mercato del sistema a casa, tra imprese di rete e indotto, interessando la quasi totalità delle attività artigiane, hanno creato lavoro e immesso una notevole quantità di liquidità. Un ponte propizio per i consiglieri comunali di Oristano, ma lo è stato soprattutto per il sindaco, la giunta e la maggioranza, che l'hanno trascorso riflettendo sui possibili scenari che in consiglio andranno a comporsi. Infatti la nascita del nuovo gruppo consigliare, del quale fanno parte Tatti, Liccheri e Angioi, attende di avviare una trattativa reale col sindaco, richiamando intanto la paridignità e l'esigenza di essere consultati sul merito delle scelte principali, e questo per evitare che in aula, al momento di andare al voto, il loro non sia in fila con quello delle opposizioni. Nell'assemblea che a Palazzo degli Scolopi, siede nella sala degli evangelisti, i margini per la maggioranza sono alquanto risicati e basta un non nulla per sovvertire i risultati, ma a quanto pare le attese di tre consiglieri rischiano di non trovare risposte in quanto i gruppi che sostengono il sindaco, nonostante la richiamata precarietà, non intendono modificare gli assetti faticosamente ricomposti e il tutto dovrebbe essere sancito da un nuovo patto politico che doveva essere sottoscritto questa sera. La salute non si vende, la sanità pubblica si difende. Sono queste le parole d'ordine del convegno organizzato dal Comitato per il dito alla salute della provincia di Oristano, che si terrà venerdì 5 maggio alle ore 18, presso la sala consigliare del Comune. La carenza di medici di medicina generale nelle lunghe liste d'attesa sono solo gli aspetti più evidenti della situazione in cui è stato volutamente ridotto il sistema sanitario pubblico. È indispensabile che questa situazione venga superata con scelte adeguate. Il servizio pubblico va difeso e rafforzato e non smantellato nell'interesse primario dei cittadini. Parteciperanno all'evento l'avvocato Rosaria Manconi, il dottor Francesco Niedu del Comitato per la difesa della sanità del margine, il dottor Gian Piero Sulis, sindacalista e dirigente medico all'ospedale San Martino di Oristano, il professore Andrea Pubusa e la dottoressa Maria Carmela Marras del Comitato per il dito alla salute della provincia di Oristano. 23 le liste presentate nei 12 comuni della provincia di Oristano dove si vota il 28 e il 29 maggio prossimi. A Villanova e Truscheidu tre le liste presentate guidate rispettivamente da Valentina Carta, Emanuele Mele e Claudio Palmas. 285 gli abitanti residenti, tre le liste anche a Milis, capeggiate da Franco Frongia, Monica Orto e Mondo De Iola, abitanti 1395. Due le formazioni a Nugheido-Santa Vittoria con Vanessa Corde e Gabriella Tatti a guidarle, 434 gli abitanti. Due le liste anche a Modolo, 170 abitanti, con Giovanni Milia e Gionata Cancedda, d'Alese 1264 abitanti, i candidati sindaco sono Antonello Rossi, assessore uscente, e Francesco Mereu che si ripropone, Cabras, il comune più popoloso con 8.728 abitanti, due le liste presentate, quelle del centro-destra guidata da Gianni Meli e la civica di Andrea Abis, sindaco uscente, Pompu 220 abitanti, Comoreno Azei che si ripropone, Roberto Locke lo sfidante, Soddi 123 abitanti, Greta Pess si ripropone, la sfida Francesco Magia, Boronè 250 abitanti, la disputa è tra Maria Giovanna Salaris e Angelo Mele, a Villa Verde 277 abitanti, e Narbolia che ne conta 1660, presentate una sola lista, a guidarle i sindaci uscenti, Sandro Marchi e Gian Giuseppe Vargio. Depositate le liste, tra in tutto è cominciata la propaganda elettorale, questi i nomi, per la lista Rossana sindaco, Rossana Lella, 56 anni imprenditrice, cinque esponenti della maggioranza uscente, Dalida Pugioni, Marco Manus, Andrea Rubatto, Gianfranco Congio, insieme al sindaco uscente Antonio Succu, per la prima volta Gina Falchi, Davide Lai, Massimiliano Serra, Umberto Guiso, Guido Ricci, Alessia Trovo, Rachele Porcu, Monica Naitana, Monica Tolu, Marco Falchi e Maria Nive Sassu. Per Macomercivi, cari Riccardo Uda, 56 anni, già sindaco dal 2013, al 2018, candidati Ritazzori, Mariano Barria, Teresa Bucciarelli, Federico Castori, Fabiana Cugusi, Aldo De Montis, Marcella Gambella, Giorgio Iocca, Totto Ulisto, Danilo Masala, Mazzetta Luciano, Maria Luisa Muzzo, Maurizio Muzzo, Daniele Niedu, Valeria Pinna, Alturo Uleri, Azzori, Bucciarelli, Castori, De Montis, Maria Luisa Muzzo, Uleri e Niedu sono già stati consiglieri nella scorsa legislatura, infine la lista 20-30, capeggiata da Luca Pirisi, 35 anni economista, questi nomi non in ordine alfabetico, Giovanni Cocco, Andrea Scogna Millo, Costantino De Riu, Azzurra Locchi, Antonella Cizia, Valeria Tora, Lorenzo Sanna, Antonietta De Riu, Franca Spanu, Elisabetta Campus, Sara Bicli, Camillo Are, Luciana Uda e Rosana Cossu, nessuno di questi è stato mai in consiglio. Nella scorsa elezione, nel 2018, la lista capeggiata da Antonio Succo vinse con 2.864 voti pari al 47,70%. La seconda lista con in testa Maria Luisa Muzzo si piazzò seconda col 42,76% e 2.567 voti. La differenza fra le due liste era di circa 300 voti. Molto distanziata, con il 9,52% e 572 voti, seguiva una lista di 5 stelle capeggiata da Maurizio Cossu. La percentuale dei votanti fu di quasi il 69%, percentuale bassa per le comunali. A questo punto le previsioni si fanno molto difficili. Nei giorni 3 e 4 maggio, presso la questura di Oristano, ci sarà la visita del segretario generale del sindacato autonomo di Polizia Stefano Paoloni. Sarà un momento di confronto e di discussione durante il quale verranno evidenziate diverse problematiche, tra i quali la grave criticità riguardante le risorse umane a dissuosizione delle questure, che saranno decimate da pensionamenti e tagli trasversali. Sarà un momento anche per capire quali sono i tempi e le modalità per la nuova contrattazione nazionale. si discuterà anche di un tema importante, ovvero garanzie funzionali e tutele legali per il personale che svolge attività operative e che necessita di estreme tutele per poter svolgere al meglio il proprio mestiere. Entro il 30 maggio è possibile presentare al Comune di Residenza istanza per l'ottenimento del bonus sociale idrico integrativo per il 2023. Le verifiche di donietà dei candidati per l'assunzione di personale a tempo determinato per l'assunzione del Comune di Oristano, di Umanovale, un falegname e due muratori si svolgeranno lunedì 8 maggio alle 9.30 nel locale del cantiere comunale Via del Porto, fronte motorizzazione civile. Col diretti donne imprese a Sardegna e mercati di campagna amica di tutta l'isola si uniscono all'Associazione Italiana di Urologia Ginecologica del Pavimento Pelvico per giornate dedicate alla salute della donna. Da domani 3 maggio e per 4 giorni in tutti i mercati Campagna Amica saranno presenti gli specialisti dell'Associazione per sensibilizzare il grande pubblico sulle patologie della sfera urogenitale femminile e per parlare di prevenzione fondamentale per la cura delle malattie del pavimento pelvico femminile. Il giorno venerdì 5 maggio alle ore 18.30 presso il Monte Granatico a Zediani il Centro Studi Agricoli in collaborazione con l'Assessorato all'Agricoltura del Comune terrà un incontro pubblico rivolto ad agricoltori e allevatori sulle ultime novità previste da leggi nazionali e regionali. I diversi argomenti saranno trattati da Torre Piana Presidente del Centro Studi Agricoli Sardegna. Grazie! 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 Grazie!